Oggi ti do la mia opinione sul viaggiare in gruppo. Viaggiare in gruppo la domanda è perché devi farlo? È estate, ti arriva puntuale come un orologio la proposta, andiamo in quel posto in 16 e poi prendi l'aereo, prendi la macchina, andate tutti assieme in quel posto e magicamente tu non hai voce in capitolo, tu non puoi decidere cosa fare. Questo è un'analogia che ti spiega quello che succede tutti i giorni quando tu segui la massa. Quando tu segui la massa e quello che fa la massa, ok? Mi laureo, mando il curriculum, trovo un lavoro, non lo trovo perché lo stanno facendo tutti. Se tu segui la massa, ti vai a schiantare contro un muro insieme alla massa. Se tu invece vedi la folla e vai dalla parte opposta, allora succede la magia. Ti invito a farlo, ti invito a provare, ti invito a scoprire l'ignoto perché solo nell'ignoto la magia accade e tu trovi finalmente la tua strada. Ciao!